O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presso il mio gioco. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora e sempre, e sei tu e te sei tu e te sei tu. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più disegnose, della tua misericordia. Carissimi fratelli e sorelle, un saluto di pace dalla Chiesa di Santa Maria delle Scale in Ragusa. La Vergine, Madre del Signore, ancora una volta ci invita ad ascoltare il suo Figlio Gesù e a fare quello che Lui ci dirà. Presentiamo a Lei, Madre dei Credenti, la nostra preghiera, affidando alla sua materna intercessione l'Italia intera e chiedendo il dono della pace, in modo particolare per la martoriata terra dell'Ucraina. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Preghiamo per Papa Francesco, i pastori della Chiesa, i missionari e le missionarie del Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco, passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Ma guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro, non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Le donne trovano la tomba vuota, il corpo di Gesù non c'è, qualcosa di nuovo è avvenuto. Quello che era un semplice gesto, un fatto compiuto certo per amore, il recarsi al sepolcro, ora si trasforma in avvenimento, in un evento che cambia veramente la vita. Nulla rimane più come prima, non solo nella vita di quelle donne, ma anche nella nostra vita e nella nostra storia dell'umanità. Gesù non è un morto, è risorto, è il vivente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Adesso oggi il nostro pane quotidiano, che rimette a noi i nostri debiti, come anche noi li vendiamo ai nostri servitori, e non la donna non c'è la generazione, ma lì per la generazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è il loro amore della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è il loro amore della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è il loro amore della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è il loro amore della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è il loro amore della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è il loro amore della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è il loro amore della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è il loro amore della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è il loro amore della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è il loro amore della nostra morte. Amo. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, nei secoli, amè. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inverno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ave Maria. Ave. Ave Maria. Ave. 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 Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo Preghiamo per i più poveri delle nostre città, i carcerati, coloro che sono vittime dell'ingiustizia e dell'illegalità Dal Vangelo secondo Marco, Gesù disse loro, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano E' per noi che è disceso dal cielo ed è per noi che vi è asceso Dopo essersi fatto in tutto simile agli uomini, umiliato fino alla morte di croce E dopo aver toccato l'abisso della massima lontananza da Dio Proprio per questo il Padre si è compiaciuto in Lui e lo ha sovraesaltato Restituendogli la pienezza della Sua gloria, ma ora con la nostra umanità Dio nell'uomo e l'uomo in Dio Questa è ormai una verità non teorica, ma reale Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà Come in cielo, così in terra Avevo Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne, tu sei benedetta fra le donne E' benedetta fra le donne, sia fatta la Tua volontà Santa Maria, madre di Dio, prega per noi che credo Adesso è l'ora della nostra umanità Avevo Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne, sia fatta la Tua volontà Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, amico Avevo Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne, sia fatta la Tua volontà E' benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è l'ora della nostra morte, amico Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe. riservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le sue cosunose la tua misericordia. Maria, Regina della pace, prega per noi. Ave Maria, ave, ave Maria. Ave, 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 ave. Della separazione. Dagli atti degli apostoli, mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte Gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Contempliamo l'effusione dello Spirito Santo operata da Cristo risorto sulla sua Chiesa. Un evento di grazia che ha riempito il Cenacolo di Gerusalemme per espandersi nel mondo intero. Lo Spirito Santo ci fa entrare nel mistero del Dio vivente e ci salva dal pericolo di una Chiesa agnostica e di una Chiesa autoreferenziale, chiusa nel suo recinto. Ci spinge ad aprire le porte per uscire, per annunciare e testimoniare la vita buona del Vangelo, per comunicare la gioia della fede dell'incontro con Cristo. Padre nostro che sei nei Cieli e sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che ne mette a noi i nostri detti, come anche noi, che ne mette a noi i nostri sedi con noi, e non abbandonare la cittadinanza, ma libera la cittadinanza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, e non abbandonare la cittadinanza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, e non abbandonare la cittadinanza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, e non abbandonare la cittadinanza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, e non abbandonare la cittadinanza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, e non abbandonare la cittadinanza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, e non abbandonare la cittadinanza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, e non abbandonare la cittadinanza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, e non abbandonare la cittadinanza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, e non abbandonare la cittadinanza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, e non abbandonare la cittadinanza. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre morte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria, regina della pace, prega per noi peccatori, adesso è il frutto del Tuo senso, Gesù. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Preghiamo per il dono di una pace e duratura nel nostro continente. In modo particolare vogliamo pregare per il popolo ucraino perché sia liberato dal flaggello della guerra e dell'odio. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Maria ha lasciato dietro di sé la morte, è totalmente vestita di vita, è assunta con corpo e anima nella gloria di Dio. E così, posta nella gloria, avendo superato la morte, ci dice, coraggio, alla fine vince l'amore. La mia vita era dire, sono la serva di Dio. La mia vita era dono di me, per Dio e per il prossimo. E questa vita di servizio arriva ora nella vera vita. Abbiate fiducia. Abbiate il coraggio di vivere così anche voi, contro tutte le minacce del dragone. L'amore è più forte dell'odio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rivedete a noi i nostri debiti, come anche noi che viviamo il nostro servizio. E non ha la paraccia, la società di Sosio, ma di rivedere la società di Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, amore di Dio, e bevola per noi i peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, amore di Dio, e bevola per noi i peccatori. A presto e l'ora, a presto e l'ora, a presto e l'ora. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, amore di Dio, e bevola per noi i peccatori. A presto e l'ora, a presto e l'ora, a presto e l'ora, a presto e l'ora. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, amore di Dio, e bevola per noi i peccatori. A presto e l'ora, a presto e l'ora, a presto e l'ora. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, amore di Dio, e bevola per noi i peccatori. A presto e l'ora, a presto e l'ora, a presto e l'ora. A presto e l'ora, a presto e l'ora, a presto e l'ora, a presto e l'ora. A presto e l'ora, a presto e l'ora, a presto e l'ora, a presto e l'ora. A presto e l'ora, a presto e l'ora, a presto e l'ora, a presto e l'ora. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, amore di Dio, e bevola per noi i peccatori. Adesso e l'ora, a presto e l'ora, a presto e l'ora, a presto e l'ora. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, regina della pace, prega per noi. Ave Maria, amore di Dio, e bevola per noi i peccatori. Nel quinto mistero della gloria, contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Preghiamo per i catechisti, gli operatori delle nostre comunità, e coloro che si impegnano a rendere la nostra Chiesa una casa accogliente verso ogni uomo e donna. Dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, si aprì il santuario di Dio nel cielo, e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di dodici stelle. Il mistero di questa ragazza di Nazareth, che è nel cuore di Dio, non ci è estraneo. Non è lei là e noi qui. No, siamo collegati. Infatti Dio posa il suo sguardo d'amore su ogni uomo e su ogni donna. Il suo sguardo d'amore è su ognuno di noi. L'Apostolo Paolo afferma che Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati. Anche noi, da sempre, siamo stati scelti da Dio per vivere una vita santa, libera dal peccato. È un progetto d'amore che Dio rinnova ogni volta che noi ci accostiamo a Lui. Padre nostro, che se ne cieli sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane e quotidiano e le mette a noi i nostri debiti, come anche noi li rinviamo ai nostri debitori e non la donna nascerebbe la Tua sola, ma in una grazia giornata. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mane di Dio, prega per noi e per voi, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mane di Dio, prega per noi e per voi, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mane di Dio, prega per noi e per voi, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mane di Dio, prega per noi e per voi, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mane di Dio, prega per noi e per voi, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mane di Dio, prega per noi e per voi, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mane di Dio, prega per noi e per voi, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mane di Dio, prega per noi e per voi, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mane di Dio, prega per noi e per voi, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mane di Dio, prega per noi e per voi, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Lui al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come al principio e ora e sempre, nei secoli, nei secoli. Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Amo. Amo. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del Cielo, che sei Dio. Ave pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'eterna gloria, Dimora consacrata di Dio, Rosa mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Inferni, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in Cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Regina dei Campanici, Regina dei Responsori della Pioggia, Regina dei Interessori della F clarit Concedi a noi i tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, semprevergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Atto di affidamento a Maria Beata Vergine Maria, Madre di Dio, con rinnovata gratitudine per la Tua presenza materna, uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che Ti dicono Beata. Celebriamo in Te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull'umanità. Afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla. Accogli con benevolenza di Madre l'atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia. Siamo certi che ognuno di noi è preziosa ai Tuoi occhi e che nulla Ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Ci lasciamo raggiungere dal Tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del Tuo sorriso. Custodisci la nostra vita fra le Tue braccia, benedici e rafforza ogni desiderio di bene, ravviva e alimenta la feda, sostieni e illumina la speranza, suscita e anima la carità, guida tutti noi nel cammino della santità. Insegnaci il Tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore. Raduna tutti sotto la Tua protezione e tutti consegna il Tuo diletto figlio, il Signore nostro Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo figlio. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E il fatto cielo e terra. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. E rendiamo grazie a Dio. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito, 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 Padre e Figlio e